Buonasera a tutti, ci troviamo nella cornice splendida del Parco d'Orea di Cenaia per un evento organizzato da Banca Mediolanum che cerca di coinvolgere i propri clienti, potenziali clienti a capire le evoluzioni del mercato, i vari temi che vengono trattati via via che si svolgono questi eventi. Il tema di stasera è l'evoluzione della consulenza finanziaria, i nuovi scenari dei mercati e l'investitore intelligente. Tema molto importante che, come gli altri, ci servirà per evolvere quella che è la consapevolezza della consulenza finanziaria e l'importanza. Buonasera a tutti, sono Luca Tomei, sono un private manager di Banca Mediolanum. Presenteremo un nostro evento e avremo modo di descrivere ai clienti e a quelli che saranno ospiti dei nostri clienti quelle che sono le strategie e i modi di lavorare di Banca Mediolanum. Spero che sarà una serata gradevole per tutti. Saluto tutti e alla prossima. Saluto tutti e alla prossima.